Acque agitate anche in Abruzzo, in casa Lega. La performance elettorale al di sotto delle aspettative ha fatto scattare le prime defezioni. Ed ieri la notizia dell'addio dell'ex coordinatore regionale e deputato uscente Giuseppe Bellachioma, in aperta polemica con i vertici del partito. Vincenzo Dincecco, uno degli esponenti di spicco della Lega in Abruzzo, mette in chiaro. Non faccio mai valutazioni di tipo personale. Io ho in un post espresso un pensiero generale e dico che quando c'è una situazione politica di questo tipo, quando si perde un po' di consenso, bisogna capire chi c'è, chi vuole lottare, combattere e continuare a fare politica e chi invece preferisce fare scelte di altro tipo. Non sono preoccupato, anzi spero che se c'è qualcuno che decide di uscire o che vuole in qualche modo abbandonare questo progetto, lo faccia subito, senza problemi, senza rancori. Ognuno una stetta di mano e ognuno decide di approdare su altri liti. Dincecco compie una franca disamina del voto, confermandosi comunque ottimista sul futuro del partito. Nelle politiche del 2018 la Lega ha preso il 13,5, questa volta prendiamo l'8,5, quindi ci sono cinque punti di meno, che comunque sono molto importanti perché è un dato reale di perdita di consenso. L'analisi concreta è che oggettivamente la Lega ha pagato in termini di voto di consenso popolare l'adesione al governo Draghi, che era una cosa che i cittadini comuni, le persone normali, quelle che hanno sostenuto la Lega in questi anni, non hanno gradito nei fatti e lo dimostra il fatto che poi gran parte di quell'elettorato che aveva dato l'adesione alla Lega ha votato Fratelli d'Italia, che era l'unico partito che è rimasto in opposizione al governo Draghi. Dobbiamo ripartire da quelli che credono nel progetto della Lega e credono nel progetto di Matteo Salvini. Io l'ho sposato nel 2018 perché credo di una Lega nazionale che in una situazione come questa, in un mondo cambiato, porti avanti le esigenze di tutto il territorio nazionale e su questo un muolo di un centimetro, anzi sono più carico di prima per portare avanti le battaglie della Lega e portarle all'interno di tutte le istituzioni dove siamo presenti.